Ciao a tutte, sono tornata ufficialmente, I'm back e ancora non ci credo, ancora non sto realizzando che sono tornata questo quindi è un video un po' chiacchiericcio, un po' aggiornamento, vi aggiorno su cosa è successo, sull'esame, sul corso e su cosa succederà in questi prossimi mesi sia per quanto riguarda un po' la mia vita sia per quanto riguarda soprattutto il canale sono tornata esattamente giovedì qui a casa, da quel momento non mi sono fermata un attimo, forse questa è la prima mezza giornata in cui sono a casa ferma non fare nulla, tra virgolette sempre, ovviamente tra rivedi gli amici, giri burocratici, il lavoro che sta per iniziare, anzi è iniziato è stato un po' un momento frenetico e volevo iniziare a rifare video già da appena arrivata ma non sono riuscita per me è stranissimo rimettermi davanti alla telecamera, mi è mancato un sacco fare video in questo periodo ma non sono proprio riuscita con i tempi sono stata appunto due mesi a Terni, ho frequentato un corso per diventare makeup artist, ho già fatto l'esame sto pure male con la voce, ho già fatto l'esame e sono a tutti gli effetti ufficialmente una makeup artist è stato un percorso bellissimo, un percorso professionale ed anche di vita stupendo ho conosciuto persone che non pensavo di poter conoscere, di poter incontrare nella mia vita ho avuto un'insegnante meravigliosa e nulla, è veramente stato un sogno nel cassetto che sono riuscita a realizzare e ancora non me ne rendo conto di come ho fatto e della forza di volontà che ci ho messo e adesso sono tornata qui a Roma e appunto inizierò a lavorare in tutt'altra cosa, nell'ambito per il quale ho studiato senza però abbandonare assolutamente il makeup, ho già dei servizi fotografici fissati sarà una vita molto molto più intensa rispetto a quella a cui ero abituata prima quando andavo all'università una vita sicuramente più piena di impegni e spero più bella e soprattutto spero di riuscire a conciliare in tutto ciò anche il canale perché vi ripeto, mi è mancato tantissimo girare video mi è mancato tantissimo il riscontro e volevo in questo video cogliere l'occasione per ringraziare le ragazze che comunque mi hanno seguito sono stata attiva soprattutto su Instagram e vi ringrazio perché mi avete sempre supportato con un like, con un commento, con un in bocca al lupo per l'esame siete state veramente sempre fantastiche ho ricevuto anche qualche mail di dove sei finita, che fine hai fatto spero con tutto il cuore di riuscire a continuare a fare i video con una certa costanza i video non smetterò mai di farli questo penso sia abbastanza sicuro spero comunque di riuscire a carnicarne almeno due a settimana ora sarà un momento un po' di organizzazione e di tutto quanto ma comunque io mi impegnerò al meglio per continuare ad essere attiva almeno quanto prima per questo video penso sia tutto quindi aspettatevi prestissimo un nuovo video ritornerò sicuramente con i prodotti finiti del periodo e vi mando un grandissimo bacio ciao